della prefetto Basilicata che era stata destinata ad altro incarico. Oggi, proprio insomma oggi, siamo di fronte alla sostanziale formalizzazione della decisione di superare la prefettura di Savona. Io chiedo quindi come il Governo intenda rendere compatibili le necessità che sono state evidenziate, la decisione che è stata anticipata da notizie di stampa proprio ieri appunto e che però si fondono su documenti usciti dal Ministero. Io voglio precisare che nella nostra zona, almeno, lo Stato non c'è se c'è la prefettura, lo Stato c'è se gli enti locali, che sono parte costitutiva della Repubblica, come ci ricorda il nostro articolo 114 della Costituzione, hanno però poteri e risorse per rispondere al bisogno di servizi, ma anche al bisogno di Stato, di comunità, di fiducia nelle istituzioni. Quindi noi abbiamo certo grande bisogno di ridurre il peso delle burocrazie, dell'affastellarsi di procedure, uffici, prerogative, ma tutto ciò deve essere fatto tenendo conto del rapporto col territorio e delle sue esigenze. Grazie. La ringrazio. Il Sottosegretario Domenico Manzioni ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, Presidente. L'interrogazione dell'Onorevole Giacobbe, unitamente a altri, richiama l'attenzione del Ministro dell'Interno sulla vicenda relativa a una rissa avvenuta in un bar di Savona, culminata con la morte di un cittadino tunisini, e chiede quindi quale iniziative si intendano intraprendere per garantire la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illegalità nella città. Come già rammettato dagli onorevoli interpellanti, il 17 luglio scorso a Savona, all'interno del bar Beach, si è sviluppata una violenta rissa tra cittadini stranieri che si sono affrontati armati di cocci di bottiglie. La rissa, successivamente proseguita all'interno del prospiciente stabilimento balneare Bagnarci, alla presenza di numerose persone, ha avuto come esito, purtroppo, la morte di un cittadino tunisi. Inizialmente le notizie apparse sugli organi di stampa hanno attribuito l'omicidio a debiti derivanti dal gioco d'azzardo. In realtà, queste almeno sono le informazioni che vengono fornite dalla locale questura. La causa scatenante è da individuare in un diverbio nato da futili motivi. La stessa questura ha inoltre precisato che non risultano evidenze dello svolgimento del gioco d'azzardo nell'esercizio commerciale in questione, all'interno del quale sono attualmente collocato cinque slot machine installate secondo la vigente normativa e regolarmente autorizzate. In merito alla vicenda, l'attività di indagine svolta dalla squadra mobile della questura ha portato all'arresto del signor Abdelaziz Bussedra, per rissa aggravata nonché alla denuncia per favoreggiamento personale del proprietario del locale. Il primo agosto scorso, contestualmente al dissequestro del locale disposto dall'autorità giudiziario, è stato notificato al proprietario stesso il provvedimento di chiusura per 30 giorni ai sensi dell'articolo 100 del testo unico legge pubblica sicurezza, provvedimento peraltro messo dal questura in data 18 luglio, già all'innomane della predetta rissa. Il barbicce, teatro dell'omicidio, era già peraltro stato oggetto di diversi controlli da parte della questura nell'espletamento dell'attività di prevenzione, in particolare nel mese di maggio, a seguito di un servizio congiunto con la questura e il personale della Polizia Municipale, ha elevato diverse sanzioni amministrative connesse all'omessa esposizione della tabella dei prezzi per la vendita al banco, omessa installazione di apparecchio rivolatore del tasso alcolemico ed omessa fissione dalla tabella dei rischi conseguenti al consumo di bevanda alcolico. Sempre nel mese di maggio il predetto locale è stato segnalato da parte dei due esercenti della zona quale probabile sede di attività di spaccio di stupefacenti da parte di cittadini estracomunitari. La questura conseguentemente possono essere un'attività di monitoraggio del locale e dei suoi avventori sfociata nell'arresto di un cittadino tunisino dedito ad attività di smercio di sostanze stupefacenti. Successivamente il prefetto, in occasione della riunione del Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica che si è tenuto il 4 giugno scorso, ha dato ulteriore impulso all'attività di controllo delle zone del capoluogo a maggiore incidenza di reati, sollecitando nell'ambito dell'attuazione del piano di controllo coordinato dal territorio un maggior coinvolgimento della Polizia Locale nell'attività di vigilanza e raccolta di elementi informativi. Al fine di realizzare un miglior coordinamento dei servizi da attuare nelle zone più critiche è stata disposta la costituzione di un tavolo tecnico di verifica presso la questura, al quale partecipano anche esponenti della Polizia Municipale. La vicenda oggetto dell'ordiana interpellanza parlamentare è stata tempestivamente trattata in occasione della riunione di coordinamento interforze svoltasi presso la Prefettura di Savona, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell'Ordine. In tale ambito è stata disposta l'ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio, con l'ausilio di personale del reparto prevenzione crimine di Liguria e di Genova, con particolare riguardo alle zone del capoluogo più critiche a quelle aeree che nel periodo estivo sono caratterizzate da un maggiore afflusso di persone. In particolare dal 1 luglio al 26 agosto scorso è stato assicurato l'impiego aggiuntivo di complessivi 52 equipaggi o dei reparti prevenzioni crimini pare a una media giornaliera di 4 equipaggi per un totale di 156 unità. Ciò ha consentito, tra i risultati più rilevanti, di controllare 613 persone e 22 esercizi pubblici, nonché di sequestrare sostanze stupefacenti. Sono state inoltre accompagnate presso gli uffici di polizia 11 persone e sono state denunciate 4 all'autorità giudiziaria. Tutto ciò consente di asserire che, al di là della percezione della cittadinanza, specie in relazione a fatti criminosi di forte impatto mediatico, come quello di cui abbiamo parlato all'inizio, la situazione della sicurezza pubblica in provincia di Savona è monitorata di continuo e è tenuta sotto controllo. Per quanto concerne l'accoglienza dei migranti, altro argomento toccato dall'interpellanza, la Prefettura di Savona ha più volte sensibilizzato i sindaci del territorio sulla necessità di assicurare un sistema di accoglienza diffusa. D'altra parte questo è il principio cardine che sta alla base del piano nazionale adottato dall'intesa Stato-Regione nel luglio del 2014. Accoglienza diffusa che è basata su una distribuzione uniforme dei migranti anche in piccole percentuali su tutto il territorio della provincia, in linea del resto con le strategie operative elaborate nell'accordo che ho appena citato e condivise dal tavolo di coordinamento nazionale, ma anche dal tavolo di coordinamento regionale. Lo scopo è quello di evitare concentrazioni eccessive di migranti che potrebbero determinare evidentemente situazioni di criticità sulle comunità locali. Su questo versante, grazie alla continua opera di mediazione posta in essere dalla Prefettura attraverso frequenti riunioni con i rappresentanti degli enti locali, è stato possibile trovare soluzioni alloggiative anche in quei comuni che inizialmente si erano posti all'accoglienza. Allo Stato attuale sono 23 i comuni della provincia interessati all'accoglienza e si prevede di coinvolgerne altri nell'immediato futuro, consentendo in tal modo un alleggerimento delle presenze nei centri di Savona, Varazze e Cairo Montenotte. Per quanto riguarda la Prefettura di Savona, di Savona, essa è attualmente retta dal vicario che, come tutti i casi di avvicinamento del titolare, svolge con pieni poteri le funzioni assegnate al Prefetto, la cui sostituzione verrà valutata nel quadro generale del movimento dei prefetti. Sentivo in coda la preoccupazione per un eventuale accorpamento della Prefettura, quella tuttavia, come l'interrogante ricorderà, non dipende dalla volontà del Governo, ma da due variabili. Una legata a una legge approvata nel corso della legislatura retta dal Governo Monti, che prevedeva una soppressione del 20% delle prefetture sul territorio nazionale. L'altra variabile, quindi non è detto però che questo piano vada in porto, perché l'altra variabile, come lei sa, è legata alla delega della recente riforma Madia, che a sua volta prevede una del tutto diversa organizzazione degli uffici della Prefettura sul territorio. Grazie, Presidente. Grazie, Sottosegretario. Non avrei già coppia a facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sì, io ringrazio il Sottosegretario e il Governo. La risposta che è stata fornita soddisfa in parte le esigenze che sono state rappresentate e che credo abbiano bisogno di ulteriori approfondimenti e scelte. La coesione sociale può essere messa in crisi da episodi gravi, ma anche dal clima che quegli episodi generano. E la percezione della sicurezza è tutt'uno con il livello di sicurezza stesso. E anche la percezione di insicurezza, tanto più quando la realtà non è inventata, ha bisogno di interventi, di presenza, di affidabilità. Così come la difficoltà ad accogliere va affrontata con una gestione corretta e condivisa dell'accoglienza. E il clima di sicurezza deve essere appunto percepito da tutti, dai nativi, ma anche dagli immigrati, per poter essere fatto vivere in modo virtuoso dagli uni e dagli altri. Sul primo ambito di questione importante è che si sia proceduto...